Tratta tutto è offerto da Mab & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. Mabmanagement.it Ogni giorno c'è chi con grande pazienza attende che la natura dia i suoi frutti. Noi di Lasio Agricoltura lo sappiamo bene. Per questo vi offriamo il meglio delle macchine agricole. Siamo concessionari per la Sardegna dei marchi Klass e Landini. Lasio Agricoltura SRL. A Serramanna e Oristano. Passione per la terra. La notizia di oggi, quella della mancanza di Giampiero, ha segnato tutto il mondo del carottaggio e anche a me. Io ho iniziato anche forse grazie a lui, perché mi ricordo benissimo la teleclonaca delle Olimpiadi del 2000, le quattro di coppia azzurra. Ale, Ale Italia! Ale che c'è luce! Ale sotto la tribuna! Ultimi 200 metri! C'è ancora la possibilità di dare luce sulla prova dell'imbarcazione tedesca che sembra essere sul momento di tracollo per quanto riguarda l'Australia. Ma il campo di ragazzo è tutto per l'Italia. Nelle ultime 150 metri mancano circa 15 colpi. Andiamo a vincere! Andiamo a vincere! Questa medaglia nuova è la nostra grande specialità del quarto di coppia. Anche quello mi ha fatto appassionare il carottaggio. Poi nel corso della mia carriera ho avuto il piacere di conoscerlo, ho avuto il piacere di incontrarlo a delle gare. Era una persona che lasciava tanto e faceva vedere la passione che lui aveva per lo sport e riusciva soprattutto a trasmetterla. Trattatutto è offerto da Mab&Co Formazione e strategie per l'evoluzione del business MabManagement.it Ogni giorno c'è chi con grande pazienza attende che la natura dia i suoi frutti. Noi di Lasio Agricoltura lo sappiamo bene. Per questo vi offriamo il meglio delle macchine agricole. Siamo concessionari per la Sardegna dei marchi Klass e Landini. Lasio Agricoltura SRL. A Serramanna e Oristano. Passione per la terra.